Come noto la problematica del disavanzo del bilancio in aggiunta ai debiti della sanità è stata ereditata dalla Giunta d'Alfonso dalle amministrazioni precedenti. Così il senatore PD già presidente della regione Abruzzo sulla bocciatura del piano di rientro regionale da parte della consulta. Il presidente della Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, Luciano D'Alfonso, parla dunque della decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della decisione della regione Abruzzo di rientrare dal deficit finanziario in 20 anni anziché in 10. Allora qui ci sono tre soggetti che hanno fatto il proprio dovere. La Corte Costituzionale a richiamare le attenzioni, la legge dello Stato a consentire un percorso di rientro ventennalizzato. La regione Abruzzo ha spiegato che non è possibile in pochi anni superare un debito accumulato in tanti anni. Questi tre livelli istituzionali hanno messo in campo un procedimento con l'unico obiettivo di salvaguardare la tutela dei diritti fondamentali, per esempio quello dei trasporti attraverso l'acquisto degli autobus, delle borse di studio o coperture importanti riguardanti la sanità. A questo punto che si fa? Si ritorna la copertura del debito ereditato dal passato e farlo in pochi anni cancellando i diritti fondamentali? O si riapre un ragionamento, tiro la fune in diritto col governo, per dare luogo ad una nuova legge dello Stato, come abbiamo fatto noi, con la legge 205 del 2017, che ha permesso la ventennalizzazione del debito. Un debito di 700 milioni di euro ereditato non è possibile ristorarlo con tre o quattro anni, c'è bisogno di un numero di anni congruo. Noi ci siamo trovati a fare i conti nei documenti contabili con debiti nati dieci anni prima. Nell'arco di 60 mesi abbiamo restituito dei 700 milioni, 300 milioni di debiti attraverso sacrifici e politiche di razionalizzazione. Per il debito restante ci vorrà una nuova legge dello Stato, una nuova procedura che però non accetti di comprimere a pochi anni il pagamento di 400 milioni. È possibile fare questo? Assolutamente sì. Ci siamo riusciti nel 2017, io ho già sollevato questo problema con la ragioneria generale dello Stato, con il MEF e la conferenza delle regioni. Facciamo fronte unitario perché ci troveremo accanto il comune di Roma, il comune di Napoli, il comune di Torino, le regioni italiane, per esempio il Piemonte, per esempio la regione Lazio, in maniera tale che un debito insorto derivante dal passato non trovi la classe dirigente e con la classe dirigente i cittadini a doverlo ricoprire in poco tempo perché significherebbe uccidere i diritti fondamentali.